Musica Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno e benvenuti a Casa Rossini, ancora una puntata di questo salotto con ospiti che vi ha accompagnato per tutto l'inverno, vi accompagneremo ancora per qualche puntata e poi andremo in pausa estiva, lo preannunciamo già per non farvi trovare poi spiazzati nelle prossime giornate. Ma ancora siamo qua, siamo in diretta, 10 e un minuto e 30 secondi in questo momento, come indica il nostro orologio in sovraimpressione, come si dice, così come in sovraimpressione trovate i contatti per appunto mandarci qualche messaggio, per mandarci foto, immagini vocali, tutto quello che volete al 351 708 9977 come numero whatsapp oppure a casa rossini, chiocciola rossinitv.it, tutto naturalmente se ci state seguendo in diretta perché questo programma va anche in replica e se siamo in replica appare la scritta replica a quel punto. È un problema mettersi in contatto attraverso appunto gli strumenti di comunicazione. Oggi è mercoledì 26 maggio, la domanda che abbiamo proposto come sondaggio del giorno, sapete che ogni giorno, ogni puntata, ma anche attraverso i social vi proponiamo un piccolo sondaggio scherzoso a questo punto perché in effetti abbiamo esaurito gli argomenti e stiamo spremendoci per scoprire quali possono essere le vostre abitudini. Quello che è online in questo momento sia su Facebook che su Instagram vi chiede a fine pasto, preferite frutta o gelato? Questo è uno degli annosi problemi, tra l'altro c'è tutto, ho fatto una scoperta perché quando propongo questi sondaggi vado anche a vedere, c'è tutto un galateo, ci sono tutta una serie di indicazioni che spiegano che cosa è meglio prima o dopo, durante o invece, insomma voi fateci sapere qual è la vostra preferenza votando appunto sui social o mandandoci un messaggio attraverso il numero di whatsapp che vi abbiamo indicato. Secondo personologi oggi è il giorno del coraggioso protettore, queste definizioni che personologi dà e che restano abbastanza misteriose, la chiesa cattolica celebra San Filippo Romolo Neri, siamo nel 1500, Firenze 21 luglio 1515, Roma 26 maggio 1595, presbitero, educatore e attivista italiano, fiorentino d'origine, si trasferì molto giovane a Roma dove radunò attorno a sé un gruppo di ragazzi di strada avvicinandoli alle celebrazioni liturgiche facendoli divertire cantando e giocando in quello che sarebbe in seguito divenuto l'oratorio. Per il suo carattere burlone fu anche chiamato il santo della gioia o il giullare di Dio. L'evento storico che abbiamo scelto per il 26 maggio risale al 1896 ed è l'anno in cui Charles Dow pubblica la prima edizione dell'indice Dow Jones. Finalmente capiamo che cos'è questa cosa di cui parlano i telegiornali quando in chiusura ci parlano della borsa americana. Indice Dow Jones creato appunto da questo Charles Henry Dow, siamo nel 1850 abbiamo detto l'anno esatto è il 1896, è stato un giornalista statunitense cofondatore della società Dow Jones & Company con Edward Jones e Charles Bergstrasser. Ha fondato tra l'altro anche il Wall Street Journal che si affermò nel tempo come uno dei più importanti quotidiani finanziari del mondo. Il Dow Jones appunto è il più noto indice azionario della borsa di New York anche se visto che è un po' datato pare insomma poco rispettare quelle che sono le tendenze nuove tant'è vero che è stato affiancato adesso dal Nasdaq ma sono cose di cui non so neanche cosa sto dicendo praticamente per cui andiamo avanti con il pensiero del giorno che è ancora una volta come da qualche settimana ormai una citazione l'esperienza è il tipo di insegnante più difficile perché prima ti fa l'esame poi ti spiega la lezione firma questa citazione Verne Lowe che è stato un giocatore e allenatore di baseball. Ringraziando per lo studio come facciamo sempre in questo punto della trasmissione la Gulliver, la Onlus Gulliver e Tiziano Donzelli che ci hanno permesso di allestire questo bello studio che vi proponiamo ogni giorno noi come sempre diamo il benvenuto al primo ospite Thomas Nobili. Ciao Thomas, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a voi, buongiorno Paolo, grazie per l'invito e un saluto agli amici di Rossini TV. Ti è piaciuta questa introduzione? No, io ero proprio esterefatto, stavo seguendo con l'ammirazione tutta la tua introduzione sia a partire da San Filippo Neri, mi fa molto piacere perché poi parla di tanti ragazzi, dei giovani, dell'oratorio che ha creato un'esperienza che anche io ho vissuto quando ero più giovane per poi arrivare al Dow Jones e al Nasdaq, questa cosa di Dow Jones non la sapevo. Se dovevo approfondire lì ci si ferma perché quando è ora dopo, anzi l'input è il solito, andate a vedere poi, incuriositi da questa cosa, andate a vedere e scoprite di cosa parlano perché sono cose che noi sentiamo tutti i giorni e poi magari boh... Anzi, aggiungo che noi le ascoltiamo quando decidiamo se mangiare il dolce o la frutta dopo il pranzo, dopo accendamente ascoltiamo gli dati sul Dow Jones. Ragazzi, l'orario di oggi è veramente sul pezzo. Thomas Nobili, nella sovrascritta naturalmente abbiamo riportato una delle tue qualifiche che è quella di essere presidente del CSV, del Centro Servizi per il Volontariato, ma poi vedremo e scopriremo che sei molto di più. Ma prima di tutto, come tu mi avevi anche chiesto, ti vuoi sottoporre al rito di Personology, questo libro che abbiamo portato alla notorietà nei mesi in cui stiamo facendo appunto Casa Rossini. Sono già emozionato, perché questa cosa mi... Come è noto, io non leggo niente prima, per cui lo scopriamo insieme, c'è sempre il rischio che dica cose che magari non piacciono, però insomma... O condivido, vediamo. Va bene così, il 9 marzo, giusto? Esatto. Il giorno del viaggio nello spazio. Già questo non sappiamo bene, forse sarà una celebrazione. Individui riflessivi e sognatori, i nati il 9 marzo, sono spesso impegnati a esplorare e analizzare lo spazio che li circonda a livello mentale, fisico, emotivo e spirituale. Curiosi di conoscere praticamente ogni cosa, non soddisfatti fino a che non arrivano alla radice di una questione o di un problema. Beh, guarda, ti stupirò, ma sono completamente in linea con quello che dici. Io sono così contento. È incredibile, guarda. Allora, diciamo la verità, i 20 euro spesi meglio degli ultimi anni, perché quando l'ho comprato ho detto, boh, e invece mi sta dando delle soddisfazioni questo libro notevoli. Allora, Gagarin è nato, lo sapevi? Iuri Gagarin. Iuri Gagarin è nato, ne abbiamo parlato tra l'altro, il primo uomo nello spazio. Ornella Muti, Paola Quattrini, stiamo parlando dei nati nello stesso giorno, e Amerigo Vespucci. Insomma, voglio dire, insomma, sei con la... Dalla bellezza agli esploratori, non posso che essere orgoglioso. Magari, so, tra 20 anni qualcuno scriverà che anche io ero nato. Sì, nel libro qui lo mettiamo. Speriamo che un po' di più. Intuitivo, sognatore, riflessivo, sono i pregi. Insomma, dai, questo quadretto è perfetto. Cioè, diciamo che parto bene stamattina. Eh, direi proprio di sì. Di iniziare la giornata con voi, con questa descrizione. Allora, avevamo concordato di partire appunto da questo impegno col Centro Servizi per il Volontariato, e forse è opportuno fare come col Nasdaq. Cioè, spieghiamo bene cos'è il CSV. Sì, guarda, lo faccio con molto piacere, anche se poi spesso quando incontro le persone mi chiedono, ma di fatto cosa fa il CSV? Il Centro Servizi per il Volontariato nasce, diciamo, dal punto di vista della storia, con la legge 266 del 1991, e viene istituito perché deve fondamentalmente sostenere, aiutare e coordinare le attività di volontariato, delle associazioni di volontariato e dei volontari, delle singole persone che decidono di fare volontariato. Di fatto è un'associazione che aiuta le associazioni. Non fa volontariato diretto, quindi non ha una mission specifica, ma la sua mission iniziale è proprio quella di essere, come dire, un po' da supporto a tutti quelli che decidono invece di fare attività specifiche. E lo fa attraverso la formazione dei volontari, che è una delle cose secondo me più importanti, perché i volontari non ci si improvvisa. Nasce la voglia di, poi però bisogna essere strutturati per poter dare il contributo più corretto. Lo fa attraverso la possibilità di cedere la propria sede, nel momento in cui è necessario fare delle riunioni, degli incontri, dei direttivi, delle associazioni. Lo fa con delle coprogettazioni a livello regionale e anche europeo. Quindi dà un supporto a chi decide di aiutare gli altri. Questo è un po' la sostanza. Da lì oggi cos'è cambiato? Che con la riforma del terzo settore, con il codice del terzo settore, questo ruolo è ancora più forte. È stato istituito il registro unico del terzo settore e il CSV ne ha, come dire, in qualche modo la paternità e deve comunque in qualche modo aiutare i volontari a essere sempre più pronti a dare supporto alle persone. L'organigrama praticamente è strutturato da base mondiale, poi base nazionale, eccetera? Diciamo che la struttura è nazionale, o meglio, è regionale. I CSV sono regionali e in rete fanno parte di CSV.net, che è la rete nazionale dei centri servizi. Poi sulla regione ci sono dei contatti provinciali. Esatto, il CSV Marche ha le delegazioni provinciali, che non hanno, come dire, un carattere economico e autonomo, ma sono delle delegazioni che devono in qualche modo riportare le esigenze della provincia al direttivo regionale, che poi prende delle decisioni un po' più strutturate e anche dal punto di vista economico. Quindi siamo un po' le antenne. Si è avvicinato questa cosa del volontariato? Guarda, ti posso dire questo, il libro di Personology parla di una persona curiosa. Io credo che quello che ha sempre mosso un po' la mia vita è stata sempre la curiosità. La curiosità di scoprire le persone, prima di tutto le loro storie, ma anche di scoprire la realtà che mi circondava. Poi da quando ero piccolo, insomma, io ho sempre avuto modo di seguire le realtà del mio quartiere, quindi la prima associazione a cui ho fatto parte, di cui sono ancora socio, che è il Mantello. Poi un evento, diciamo, che mi ha colpito moltissimo, che è stato il lutto di mia mamma, mi ha fatto conoscere la Fondazione Ante. E da lì ho pensato di fare un percorso non solo di volontariato, ma di sensibilizzazione ai giovani. Quindi abbiamo creato una sezione giovani in cui abbiamo fatto feste, aperitivi, per raccogliere fondi. E da lì, insomma, poi mi sono avvicinato al centro servizi come delegato del Mantello e sono entrato nel direttivo, poi presidente provinciale. Insomma, un bel percorso, però un percorso che segue un po' quella che è la tua vita curiosa, no? Assolutamente. E anche comunque di mettersi a disposizione, perché poi se il centro servizi per il volontariato mette a disposizione tutto quello che sai che può per le associazioni, te sei a disposizione del centro servizi, per cui sei proprio il più disponibile di tutti. Sicuramente tutti quelli che fanno parte del centro servizi nel direttivo, che sono insieme a me, fanno tutti volontari, sono tutti volontari che non vengono retribuiti, ovviamente, ma sono semplicemente persone che mettono a disposizione il loro tempo e la loro esperienza. Ma lo fanno nell'ottica di crescere tutti. Io ho sempre detto, quando incontravo tutti gli altri volontari, come dire, che ognuno di noi è un po' il tassello di un mosaico, no? Che singolarmente siamo un pezzettino colorato, ma se messo insieme agli altri poi facciamo un capolavoro. E quindi a ognuno di noi è chiesto semplicemente di essere se stesso, di portare il proprio contributo, il proprio dono, la propria capacità, e poi il resto lo si fa insieme. Ci vogliono competenze molto forti, perché poi è un mondo, questo del terzo settore, che è comunque governato da delle regole, delle leggi, alle volte che confliggono una con l'altra. Insomma, non è propriamente tutta una situazione di rose e fiori. Per cui credo che sia necessario proprio avere una bussola ben chiara e qualcuno che ti orienti. Ma assolutamente. Il centro servizi, tra le altre cose, fa proprio dei corsi di formazione anche ai presidenti nel senso di gestione delle risorse umane, perché i volontari, proprio perché decidono di fare un'attività volontariamente libera e non retribuita, arrivano col proprio bagaglio culturale, personale, e non sempre siamo tutti in linea su certe cose. E quindi il presidente ha anche la funzione di cercare di fare un po' squadra, guardare tutti nello stesso punto, ma ognuno con la sua particolarità. In più il centro servizi, come dicevi tu, deve aiutare anche a svolgere funzioni di trasparenza, perché poi ogni realtà deve fare un bilancio, deve mostrare che la sua attività è ovviamente in linea con il codice del terzo settore, con la legge, e quindi questo anche a volte in nostro paese la burocrazia non sempre ci aiuta e il centro servizi fa anche quello. La sensazione è che nella nostra provincia ci sia un bel fermento dal punto di vista del volontariato. Dal tuo punto di vista, l'osservatorio cosa dice? Ma guarda, ti posso dire che nella nostra provincia sono quasi 400 le realtà di volontariato, più o meno attive, ma tutte nate da un'esigenza. E quindi l'esigenza è proprio quella di contribuire nel proprio territorio con la propria attività. E sono tantissime le persone che decidono di fare volontariato. Qualcuna in maniera più strutturata, più duratura nel tempo, qualcuna magari anche semplicemente per delle occasioni specifiche. E' facile raccontarvi come durante il lockdown abbiamo ricevuto tantissime telefonate di persone che non hanno mai fatto volontariato, ma che in quel momento volevano dare un loro contributo. Alcuni rimangono limitati a quello, altri invece poi decidono di proseguire il percorso in maniera più strutturata. Questo sicuramente dimostra che c'è un territorio molto sensibile e quindi la voglia di aiutarsi a vicenda è molto forte. Noi abbiamo ospitato il Presidente dell'Avo che ci diceva che chiaramente hanno dovuto riparametrare quello che era la loro attività, visto che l'attività consisteva nell'assistenza personale, fisica, all'interno delle strutture ospedaliere. E loro si sono in qualche modo reinventati, di slancio con questo numero a disposizione, che ha avuto un grande successo al punto da superare anche i limiti territoriali. Insomma, c'è voglia, giustamente, un volontario vuole operare, per cui non si sono voluti fermare con il lockdown e questa è una cosa importante. Assolutamente importante e Avo, come tante altre realtà che lavoravano, tra virgolette, facendo attività in presenza con le persone, si sono dovuti tutti un po' reinventare. Ma come io ho notato in questo ultimo periodo, a volte anche dalle difficoltà nascono delle nuove opportunità. e abbiamo aperto, io credo, anche la porta ad un modo nuovo di rapportarsi che mantiene indubbiamente quello che era prima. Quindi il rapporto umano non può essere lasciato da parte perché è ciò che ci rende comunità e ciò che dà valore al mondo del volontariato. Però abbiamo capito che anche quando questo non è possibile, non è detto che non si possa fare volontariato. Già il fatto di riuscire a non far sentire sole le persone che sono a casa da sole, anche in una telefonata. Mi è piaciuta molto l'idea anche del Comune di Pesaro che aveva attivato insieme all'ambito territoriale il fatto di sollecitare i giovani a chiamare i propri nonni. Ecco, non dobbiamo mai dimenticare che il rapporto umano fa la differenza sempre. Certo. Bene, allora, naturalmente potremmo andare avanti a parlare di questo, ma siccome gli argomenti sono diversi, l'abbiamo già detto, io voglio portarti invece in un altro ambito, nell'ambito dello speakeraggio, per così dire. Avrete notato che Thomas ce la cava molto bene col microfono, procede bello, fluido, liscio e molto chiaro. C'è un motivo, insomma, perché lui col microfono è particolarmente abituato a interagire, visto che tra le tue attività di grande successo c'è comunque tutto un rapporto con il mondo dello spettacolo e con la presentazione di iniziative di spettacolo, giusto? Spettacolo e sport. Ma sì, adesso ti dico una cosa che tu sai benissimo, ma che non ti avevo mai detto prima, ma in realtà la mia carriera, chiamiamola così, di speaker, di presentatore, è nata sicuramente nella mia parrocchia, perché io quando ero molto piccolo, mio babbo mi spinse, visto come mi piaceva rapportarmi con gli altri a cominciare a fare lo speaker del presentatore. Ma io ho fatto un passaggio importante, che è quello di un corso di formazione con Pesaro Village. E parlavamo prima fuori onda, perché Paolo, che ha fatto questo corso, che l'ho fatto per tanti anni, non so se lo fate ancora, forse no. È in partenza, adesso con una struttura, con una delle associazioni di categoria, con Fartigianato, ma è una questione di iscrizioni, insomma, siamo nella fase delle iscrizioni, è in partenza. Quindi allora mi fa molto piacere, perché in quell'occasione, insomma, Paolo mi diede degli importanti suggerimenti, gli raccontavo prima, sugli errori che io facevo in quel corso. E quindi in qualche modo sei partecipe anche di questo percorso professionale che è arrivato. Diciamo che è andata bene allora, l'indicazione, se andava male, avevo corretto o sbagliato, insomma, invece così vuol dire che qualcosa... Sicuramente quello che sei riuscito a trasmettermi, che ancora mi porto oggi dietro, è il divertimento nel fare quello che si fa. Cioè salire sul palco o presentare qualunque evento, a me ancora oggi non solo mi emoziona quando lo sto per fare, ma mi diverte. Poi quello che arriva al pubblico, io non lo posso sapere, ho spesso avuto dei riconoscimenti positivi, mi fa molto piacere, probabilmente qualcuno potrò anche non piacere, questo è fuori di dubbio, però, quello che mi ha sempre portato avanti, che io mi auguro mi porterà avanti fino alla fine, è proprio il divertirmi col pubblico. L'esperienza di un evento in diretta, dal vivo, con il pubblico, di cui oggi manchiamo tutti tantissimo, quell'emozione lì è fortissima, è veramente una carica che ti porti dietro sempre, che farà sempre la differenza per me. Per esempio stare dentro un palastetto, dove la VL magari in quel momento vince, e poterlo proclamare a un pubblico entusiasta, è sicuramente una cosa che arriva, quasi come se l'ultimo canestro l'avessi fatto te. Ma sì, guarda, la VL è un'esperienza che è nata quasi 15 anni fa, e ancora oggi mi dà veramente delle bellissime soddisfazioni, e grandi emozioni. Lì poi c'è una particolarità, perché devi assolutamente mantenere un ruolo, come dire, neutro, perché non puoi assolutamente esagerare nelle dare euforia quando facciamo canestro, ma nello stesso tempo però devi anche caricare sia il pubblico che i giocatori. E quella è un'esperienza molto affascinante, perché poi quest'anno in particolare, senza pubblico è stato tutto molto più difficile. Però ecco, il ruolo nostro è quello di essere dei bravi mediatori tra la correttezza delle regole che sono imposte dalla Lega, ma anche l'energia che devi trasmettere nei tifosi che poi devono diventare il sesto uomo in campo, quindi devono dare il supporto alla squadra. È un ruolo che è cresciuto negli anni, no? Io mi ricordo i primi anni, proprio anche gli anni dello Scudetto, con Giorgio, Gionmi, che magari era più un'indicazione di chi faceva canestro in quel momento, eccetera, invece adesso credo che ci sia un po' di più da dire, no? Sì, Giorgio, io l'ho conosciuto durante un programma radiofonico che conducevo con Andrea, con l'Ape Andrea, di cui magari poi parleremo, ed è stato per me quasi un padre. Io mio babbo l'ho perso quando ero molto piccolo e Giorgio in qualche modo mi ha raccontato la storia del basket pesarese un po' come se fosse mio padre. Quando poi mi sono trovato ad affiancarlo dal tavolo abbiamo fatto un percorso un po' di condivisione, nel senso che io ho portato un po' quell'energia e quel tocco di animazione che forse non c'era. E lui ha insegnato invece a me l'arte di essere, come dire, moderatore in quello che dicevo prima. Quindi sicuramente abbiamo fatto un passaggio insieme. Per esempio la presentazione della squadra veniva fatta a sedere al tavolo. Io ho proposto, insieme ad Andrea, nella nostra un po' idea di animazione di farlo invece al centrocampo, come se fosse un evento, perché poi di fatto la partita è un evento, è un evento sportivo, ma è un evento. E quindi questo sì, in effetti come dici tu, ha portato a una modifica dal punto di vista dell'animazione. Se durante le partite di basket ci vuole questa sottile mediazione tra appunto stare tranquilli ma far capire... col palio dei bracieri invece no, col palio dei bracieri ci si può sbizzarrire. Il palio dei bracieri è un'esperienza che ti rimane dentro a vita. Io ho fatto quasi, credo, quella di quell'anno scorso doveva essere la decima edizione che non è mai partita purtroppo, ma quella del palio dei bracieri è indubbiamente l'esperienza che ti fa toccare con mano l'energia dei giovani. Ti fa toccare con mano la voglia di una città, di essere città, di essere presente e ti fa toccare con mano proprio la passione dei colori e del divertimento e questo secondo me è indubbiamente una delle cose che mi ha colpito di più. Molto faticoso, devo ammettere, forse l'ho detto anche altre volte, ma non ho paura di dirlo, che sono giornate veramente difficili. Poi quella della finale, io mi ritrovo nel fossato di Rocca Costanza alle due di pomeriggio ed esco più o meno alle dieci di sera. Un parlare continuo e i primi anni avevo grandi difficoltà con i fumogeni perché il fumo era per la voce nemico, nemico assoluto. Però veramente grandi emozioni, tantissimi ragazzi che ho incontrato. Un po' di radio, un po' di tutto, noi facciamo parte sia io che te di una famiglia esposta dal punto di vista artistico e del palco, no? Tra tutto, ti è mai capitato di presentare un concerto di tuo fratello Simone? Allora, se non ricordo male, sì, uno solo però. Lo salutiamo, tra l'altro, salutiamo Simone se ci vede. Ciao Simo. Credo di averne presentato uno solo però perché in realtà non ci siamo mai decisi a farlo. Credo che tra l'altro quando l'ho fatto l'ho anche improvvisato perché ero lì a sentire e lui poco prima di iniziare mi fa ma perché non mi presenti tu stasera? E io ho fatto ma perché no? E quindi l'ho fatto con molto desiderio e mi ha fatto molto piacere. Non sono riuscito mai però ad averlo tipo ospite in un programma radiofonico che conducevo e neanche in un concerto strutturato dove io avevo già l'incarico di presentare. Quello non mi è successo ancora. Prima di passare negli ultimi minuti alla terza cosa che vogliamo affrontare che è poi il tuo ruolo di consigliere comunale un ricordo particolare un po' così eclatante non il più bello però eclatante delle tue varie presentazioni di tanti anni passati su un palco col microfono? In realtà sì da raccontare ce ne sarebbero tanti perché poi sono state veramente tante le cose che sono successe. Forse te ne racconto una simpatica che potrebbe far ridere perché quando tanti anni fa la VL decise di fare gli allenamenti della prima squadra nelle palestre dei paesi dell'entroterra io insieme a Andrea e a quella volta c'era Michele Braccini che saluto che faceva il DJ seguivamo la squadra quindi andavamo a fare animazione nelle palestre dei paesi dell'entroterra in un'occasione specifica il microfono che dovevo usare per presentare il sindaco del paese e la squadra non funzionava e mi diedero un microfono col filo cominciamo la presentazione Andrea aveva questa abitudine con il suo vestito di prenderti da dietro all'improvviso e poi ti trascina con lui e ti fa cadere a terra io purtroppo in quell'occasione non vidi Andrea arrivare lui non vide che io avevo il microfono col filo lui mi fece cadere a rinietro ma io non lasciai il microfono e feci cadere tutto l'impianto ci fu un attimo di black out totale il sindaco stava parlando con la musica in sottofondo e si fermò tutto abbiamo distrutto l'impianto e Michele tra l'altro che era il DJ l'impianto era il suo e abbiamo anche rovinato il mixer e le casse e questa rimase nella storia perché chiaramente Andrea ripagò tutto si senti in colpa anche se poi anche io ero un po' in colpa perché dovevo lasciare il microfono è certo ma distinto non mi vengo di lasciarlo lo speaker il microfono non lo molla mai è il suo mestiere l'attretto del mestiere non lo può lasciare lo tieni in alto anche quando finisci in acqua insomma voglio dire è la sua presenza allora abbiamo 3-4 minuti per parlare di questa tua avventura politica visto che sei consigliere comunale e tra l'altro mi sono segnato le commissioni sei presidente della commissione politica educativa scuola e pari opportunità rimaniamo un po' nell'ambito e componente della commissione politica e sociali è un'esperienza che mi ha sempre incuriosito vista da chi arriva da un percorso diverso insomma assolutamente sì ma io in realtà credo che torni l'elemento della curiosità di cui ti parlavo all'inizio perché la curiosità mi ha spinto a conoscere tante persone tante realtà e questo ancora oggi mi spinge molto a come dire essere sempre impegnato nel territorio in quello che io vedo vicino a me alle persone che incontro e che spesso mi dicono ma perché non metti a frutto ancora di più la tua esperienza la tua capacità anche di dialogo perché politica poi è anche dialogo come dire e mediazione per tanti anni ho riflettuto su questo concetto e quando è arrivato il momento delle amministrative di Pesaro la riflessione si è fatta ancora più concreta e quando poi mi è arrivata la richiesta anche di pensarci in maniera più seria per questa lista civica ci ho un po' riflettuto e alla fine ho accettato una sfida perché in realtà io non vengo da un percorso politico non mi sono candidato in un partito politico perché la nostra è una lista civica quindi mette insieme persone che hanno fatto dei percorsi diversi nell'ambito sociale sportivo e quindi era la volontà di portare la voce dei cittadini senza un taglio per forza politico l'esperienza poi è andata bene perché poi sono riuscito ad entrare in consiglio e oggi sto notando come questa curiosità continua a mantenersi forte e chiaramente però ti devi scontrare anche con dei meccanismi che non conoscevi e che in alcuni momenti non mi appartengono fino in fondo però è un percorso veramente molto interessante che sto facendo con molta energia anche perché poi arriva sempre dopo il lavoro la famiglia i tanti impegni e dobbiamo sempre ritagliarci il tempo anche per studiare sei riuscito a mettere la firma su qualcosa che inciderà sulla vita pubblica o che sta già incidendo sulla vita pubblica allora sì ho presentato tra le varie emozioni una della prima credo se non ricordo male che era quella legata al mondo della diversabilità proprio perché venendo dal mondo del volontariato ho sempre avuto rapporti costanti diretti con delle realtà che mi hanno sollecitato l'attenzione alle persone con disabilità la mozione che presentai ormai un anno fa che venne approvata all'unanimità e ne fui anche molto orgoglioso anche se poi devo specificare che le mozioni nascono da una persona ma poi vengono condivise con il gruppo consigliare con la maggioranza e quindi poi diventa un percorso di gruppo non mi piace molto parlare troppo di una persona che fa qualcosa ma è veramente una condivisione per quello deve essere secondo me l'adesione del comune di Pesaro alla convenzione ONU sulle persone con disabilità quindi una sorta di regole che devono essere alla base nelle decisioni di una città nei confronti delle persone con disabilità quella fu una delle mozioni a cui tendi di più poi altre ci sono state sul campus su cercare di migliorare la viabilità del campus e tanti altri percorsi che abbiamo fatto insieme bene se avessimo più di tempo potremmo parlare non abbiamo commentato le foto è vero siamo alle foto avevamo un sacco di cose è un attimo che ti richiamo per l'ultima puntata di lunedì è un attimo perché abbiamo avevamo in scaletta le foto delle foto da commentare ma ci siamo fatti prendere dall'euforia delle cose che ci siamo detti e poi un'ultima battuta su questo progetto con i ragazzi ci sto a fare fatica sì bellissimo progetto il CSV promuove anche quest'anno come lo scorso anno un progetto che nasce in realtà da un'altra realtà di CSV del nord ma che noi abbiamo portato nelle Marche grazie anche alla regione Marche che lo ha appoggiato e lo ha finanziato un progetto che vede coinvolti i ragazzi dai 16 ai 21 anni durante il periodo estivo il progetto si chiama ci sto a fare fatica vuol dire coinvolgere i ragazzi di quella fascia di età nel fare lavori di manutenzione dei beni comuni un po' per in qualche modo impegnarli nel periodo estivo che è spesso un periodo per loro a volte vuoto un po' per farli prendere coscienza che i beni comuni non sono beni di nessuno ma sono beni di tutti e in quanto beni comuni di tutti dobbiamo tutti tenerci un po' fare attenzione e tenere a fatto che siano tenuti nella maniera adeguata e quindi i ragazzi potranno impegnarsi nel ripulire i parchi e pitturare le panchine che sono rovinate sistemare delle stazionate quindi occuparsi della propria città in modo che poi si sentano anche responsabili e evitino di sporcare o di rovinarli prima ancora di doverli pulire fin quando fa qualcun altro sembra sempre più facile esatto invece quando si comincia ad essere in prima persona e allora succede anche dentro casa praticamente che è un po' il ruolo che abbiamo anche come genitori aiutare i ragazzi a capire che ci sono dei beni e delle cose che devono sentirsi responsabili loro per primi perché sono le loro e noi dobbiamo lasciarle a loro poi tornato queste cose Thomas è stata una chiacchierata piacevolissima noi ci conosciamo appunto come avete sentito da molti anni però non c'era capitato mai di fare due chiacchiere così soprattutto di pensare che queste nostre chiacchiere sono arrivate a casa a tante persone che hanno avuto l'opportunità di conoscerti di approfondire la conoscenza di un altro dei personaggi della nostra città che è un po' lo scopo che abbiamo messo in piedi quando abbiamo pensato a questa trasmissione a questa casa Rossini grazie a voi mi fa molto piacere Paolo perché è stata una chiacchierata molto informale ma anche proprio bella ed è una delle prime volte che riesco a parlare di tante cose tutte insieme perché spesso mi chiamano come presidente del CSU come consigliere comunale o altro quindi mi ha fatto molto piacere tornerò molto molto volentieri e ringrazio gli amici che sono all'ascolto che ci hanno seguito e che lo faranno anche in replica i prossimi giorni quando ci sarà replica esatto e poi se posso voglio salutare Andrea Fazzi che sarà ospite tra pochissimo che arriverà perché è una persona strepitosa che ho conosciuto sempre anche col mondo del volontariato ed è una guida per tanti ragazzi che vogliono conoscere il mondo del Parco Miralfiore da noi a Pesaro ma in generale il mondo dell'ambiente l'uomo che sussurra agli alberi sarà il nostro terzo ospite adesso andiamo in pubblicità poi saremo di nuovo in studio con Barbara Bulgarini della ditta Bulgarini Ascensori con la quale scopriremo cose molto interessanti restate con noi ancora grazie a Thomas e alla prossima occasione grazie a voi e buona giornata come dico sempre siete rimasti avete fatto benissimo perché siamo con il secondo anzi con la seconda ospite della nostra mattinata Barbara Bulgarini buongiorno Barbara buongiorno buongiorno a tutti allora Barbara Bulgarini ha un cognome importante perché è un cognome che a Pesaro si conosce molto bene e non solo a Pesaro per intenderci Bulgarini Ascensori lo vedete nelle targhette dentro l'ascensore quando spingete il pulsante quando salite la classica targhetta quella che uno guarda quando non sa quando non vuole guardare in faccia quando è dentro l'ascensore che magari è un po' in imbarazzo perché è così e allora guarda la targhetta comincia a leggere e scopre Bulgarini Ascensori dal 1971 entriamo subito entriamo subito nel vivo è un'azienda importante 50 anni di attività si 50 anni di attività sono quindi una lunga strada fatta di tanto sacrificio di tanto lavoro da parte della insomma di mio padre ma anche di grandi soddisfazioni poi volevo dire che comunque un merito va anche dato a mia madre che saluto ciao mamma salutiamo perché comunque anche lei è sempre stata a fianco a mio padre e contribuendo alla crescita dell'azienda e mi ricordo quando ero piccolina che entrambi tornavano tardi dal lavoro stanchi e insomma affaticati però con in viso tanto orgoglio per il lavoro svolto e quindi abbiamo questa immagine qui e mio fratello un'azienda che è stata raccontata benissimo in uno speciale che è andata in onda qualche giorno fa e che comunque continua ad andare in rotazione gestito da Antonio Astuti che salutiamo e che è entrato un po' nei segreti della vostra azienda allora perché noi abbiamo chiesto di avere Barbara qui con noi oggi per conoscere un po' meglio le persone per conoscere un po' meglio diciamo lo speciale andava sull'azienda qui invece ci piace un po' così avere esatto avere una una chiacchierata proprio informale e amichevole insomma anche perché poi nel sentirci nella telefonata che io faccio sempre con i nostri ospiti prima di andare in onda abbiamo scoperto appunto conoscenze comuni legate a comunque a mio padre a mia nipote e sua figlia insomma ci siamo subito ritrovati come spesso succede a Pesaro perché Pesaro ha questa caratteristica in qualche modo siamo tutti un po' collegati e allora il ruolo di Casa Rossini è anche quello di far emergere queste realtà importanti del nostro territorio e far capire che dietro c'è comunque ci sono delle persone e in questo caso dove c'è una famiglia una famiglia che ha diciamo lanciato quest'idea tuo padre Santo si chiama Santo esatto l'ha lanciata nel 71 e da lì poi l'azienda è cresciuta adesso ci siete tu e tuo fratello ci siamo io e mio fratello dove io appunto mi occupo della parte più amministrativa e lui invece è la parte più tecnica quindi non ci scontriamo mai per questo anche perché siamo abbiamo due ruoli completamente separati anche se nel contempo collaboriamo tanto e giustamente perché se no per forza e poi c'è mio padre che comunque ci supporta ci dà dei consigli perché comunque in tutti questi anni ci ha trasmesso tanti valori e questi valori insomma io e mio fratello li stiamo trasmettendo ai nostri figli che speriamo anche loro vengano in azienda tutto è pronto per l'entrata della terza generazione della terza generazione anzi il figlio di mio fratello fra l'altro è già entrato e i miei figli speriamo siano prossimi e vediamo insomma voi avete questa filosofia solida del far entrare le persone della famiglia però cominciando a fare le cose sì sì esatto occupandosi di tutti i settori perché bisogna conoscere un po' tutto infatti mio fratello non è che è entrato subito così imparato in ufficio ma ha fatto dieci anni di gavetta nei cantieri insomma mio padre le ha fatto fare una bella gavetta e anche io comunque non è che è giusto così non sei arrivata seduta nella poltrona dirigenziale insomma ecco e quello credo che sia alla fine il segreto per fare in modo che le aziende durino nel tempo perché così si capisce come è strutturata un'azienda così si capisce quali sono le problematiche e come farle crescere immagino che dal 71 a oggi ci sia stata un'evoluzione enorme tecnica tecnologica e anche tutto sommato forse dal punto di vista del mercato no? posso così immaginare? sì sì dal punto di vista del mercato sì ci sono stati dei cambiamenti comunque c'è stata l'evoluzione perché all'inizio diciamo che si parlava solo di ascensori si parlava quindi ascensori che venivano installati in condomini in case insomma magari con 4-5 piani invece adesso c'è una tendenza diversa che praticamente ci si ritrova soprattutto a proporre mini ascensori che sono dei piccoli ascensori che sono adattabili a insomma a quasi tutte le case quindi alle billette alle case e sono dei piccoli ascensori che richiedono delle dimensioni minime insomma delle dimensioni questo è un po' il motivo per cui noi pensiamo che parlare di ascensori in un programma come questo del mattino rivolto a un pubblico di privati che stanno a casa non sia del tutto fuori mira proprio perché anche un privato può invece essere interessato a a far montare un ascensore nella sua casa oppure ci sono anche altri servizi di cui parliamo dopo che possono andare nei confronti dei privati insomma diciamo che ascoltate bene perché alla fine della puntata sicuramente potrebbe esservi venuto in mente qualcosa di interessante per avere il motivo per contattare la nostra Barbara sei tu che rispondi sì sì ci sono anche altre ragazze però insomma ci sono ci sono anche io ci sono voi avete una ventina di dipendenti sì una ventina di dipendenti fra cui anche vari apprendisti a cui stiamo insegnando il nostro il nostro lavoro il nostro mestiere hai detto che qualcuno è stato praticamente da assunto come primo lavoro è rimasto fino alla pensione in azienda esatto e questo dai anche un orgoglio per noi c'è ancora qualcuno in azienda della primissima ora o sono andati in pensione tutti quelli no no ce ne sono ce ne sono immagino l'esperienza che avranno l'esperienza ce ne hanno tanta e quindi sono sempre stati con noi da quando erano hanno iniziato a lavorare fino ad ora e insomma anche questo è insomma un orgoglio per noi ieri quando ci siamo sentiti ho detto che avete azzeccato molte cose tra cui anche le macchine che girano perché sono visibilissime questi furgoncini queste macchine furgone di colore rosso con la scritta grande e neanche a farla apposta poi io appena finita la nostra telefonata ieri sono andato a ritirare la mia macchina che avevo portato a fare il tagliando e mentre andavo due ne ho incontrato ne ho incrociate due e poi dico deve essere proprio che o sono loro dappertutto oppure io oggi sono particolarmente sensibili a notarle perché domani avrò Barbara in trasmissione non so quale delle due però comunque funziona insomma è sicuramente una cosa efficace abbiamo vari mezzi e di conseguenza è facile vederseli girare per Pesano per noi anche una forma di pubblicità perché comunque girano la gente vede e quindi è una forma di pubblicità poi comunque avendo anche il servizio H24 e i furgoncini sono sempre spieghiamo di cosa si tratta allora mi ha spiegato Barbara ieri al telefono e io non lo sapevo ma secondo me non lo sapete neanche voi che dal 2000 c'è una legge che impone dal 2002 c'è una legge che impone di installare in tutti gli ascensori di nuova installazione appunto un telefono che è collegato con una centrale operativa è una cosa che è rassicurante perché è vero che possiamo avere ormai adesso il cellulare però il cellulare quando serve non funziona non funziona è scarico poi dentro l'ascensore magari non prende magari non prende bene per cui è una bella sicurezza e dall'altra parte c'è una centrale operativa sì è una sicurezza perché appunto la normativa europea dal 2002 ha introdotto l'installazione di questi si chiamano combinatori che collegano praticamente chi è intrappolato in cabina con una centrale operativa quindi c'è una sorta di telefono che può chi rimane intrappolato in cabina comunicare con noi in questo caso H24 voi avete una centrale vostra non avete esternalizzato il servizio per cui siete proprio voi in prima persona esatto siamo noi che rispondiamo e fate partire la macchina e facciamo immediatamente partire il tecnico per liberare la persona intrappolata quindi adesso le sicurezze ci sono non bisogna avere paura io immagino che adesso non ci ho mai pensato ma immagino che quella di rimanere chiusi dentro l'ascensore sia uno degli incubi in una buona posizione in classifica uno dei timori che può avere la gente in una buona posizione in classifica molti anni fa abitavo per un periodo abitato a Roma in una casa al quinto piano e coabitavo ai tempi di indietro tutta con un'altra partecipante che aveva paura dell'ascensore si faceva tutti cinque piani a piedi pur di non entrare nell'ascensore arrivava distrutta chiaramente però insomma è un timore l'ascensore è un po' nell'immaginario come il posto pericoloso si è un posto pericoloso però alla fine non è vero non è vero comunque ci sono tutte gli ascensori sono soggetti a tutte le norme di sicurezza quindi l'aria c'è assolutamente dentro gli ascensori perché perché c'è esatto e poi adesso c'è anche il combinatore telefonico che vi mette in contatto con la centrale operativa quindi non è insomma il cinema è un'altra roba il cinema è un'altra roba tra l'altro peccato che a questo punto col combinatore non ci potrebbero essere più situazioni come quella famosa del film di Alberto Sordi e la Sandrelli con lui Monsignore rimangono chiusi tutta la notte qualcuno l'avrà visto questo film adesso invece basta fare la combinazione e arriva subito dall'ascensore il guastafeste arriva il guastafeste chi ha visto il film capisce e capirà forse perché io dico il guastafeste però è una bella sicurezza direi che è una cosa che è importante anzi anche quelli che non hanno questo combinatore telefonico è bene che insomma venga quanto prima installato perché è importante naturalmente non ci sono più quegli ascensori quelli con la rete con le porte che facevano che montavano nelle trombe delle scale in vetro cristale insomma in vetro sono bellissime non ci sono più le reti di una volta non cigolano neanche no no adesso niente ormai tolto un bel po' di suggestione ma in realtà regalata un bel po' regalata brava regalata un bel po' di sicurezza allora avevamo parlato anche del fatto del personale del personale da formare cioè il problema è che è un tipo di attività talmente specifico che difficilmente un percorso scolastico riesce a formare del personale per cui viene generalmente formato in azienda però la vostra associazione di categoria che raccoglie i titolari di aziende che realizzano perché voi realizzate anche non solo installate ascensori si sta organizzando addirittura per creare dei percorsi scolastici si sta organizzando per creare delle accademie delle accademie dove appunto si formano questi ascensoristi che questo mestiere un po' sconosciuto fra virgolette perché è un mestiere sconosciuto e quindi si sta creando di cercando di fare appunto queste accademie adesso al nord hanno iniziato adesso piano piano vediamo come però adesso voi li assumete poi li formate in azienda noi si attualmente è un periodo di apprendistato e poi dopo dopo l'apprendistato vengono formati comunque per formare un ragazzo a diventare ascensorista ci vogliono circa 5-6 anni però eh si per cui è chiaro che nel momento in cui l'avete formato e sapete e conoscete la validità lo tenete con voi il più tempo possibile ecco esatto è evidente comunque 5-6 anni investiamo molto su di loro è un investimento grosso è un investimento grosso quindi insomma l'obiettivo è quello allora cosa va per la maggiore ce l'hai già detto ci sono questi mini ascensori per villette per case relativamente piccole dove non c'è la possibilità di installarli internamente si possono installarli anche esternamente installare quindi le possibilità ce ne sono tantissime ce ne sono poi avete anche comunque tutta una serie di linee dedicate alla mobilità personale il classico come si chiama montascale che sarebbe la seggiolina dove non è possibile dove non è possibile installare un mini ascensore un ascensore comunque viene installata questa seggiolina che si chiama serboscala che diciamo che sale in una ringhiera delle scale per aiutare proprio le persone che hanno problemi di deambulazione certo e quindi rivolte ai privati sono queste diciamo le attività poi dopo tutto il resto invece vi rivolgete alle imprese di costruzione come si diceva Paolo l'ascensore è un po' in controtendenza in questo momento perché adesso la tendenza è della forma fisica sì è quello infatti siete consapevoli che alcune pancette un po' pronunciate sono anche un po' responsabilità vostra però comunque aiutiamo anche tante persone che hanno problemi di deambulazione che hanno patologie diverse quindi diciamo che l'ascensore serve e bisogna usarlo quando serve se potete fare a meno e andate piedi e salite le scale perché le scale restano sempre almeno nei almeno magari in discesa esatto salita uno poi in discesa esatto in Italia le scale ci sono in qualche palazzo enorme all'estero così sembra quasi che siano sparite e si è rimaste solo come situazioni d'emergenza che sia ormai solo l'ascensore invece da noi la scala c'è ancora c'è anche la scala io mi salvo perché abito in una casa che internamente è di due piani per cui ogni tanto qualche gradino lo faccio ecco benissimo e meno male ma come vedi però dovrei fare di più e che territorio coprite voi? allora noi compriamo il territorio delle Marche e dell'Emilia Romagna lavoriamo soprattutto in questa zona anche perché poi oltre non ci si può espandere perché noi appunto abbiamo servizio di assistenza servizio H24 e quindi poi non si riuscirebbe a dare un servizio ottimale e preferiamo insomma limitarci nella zona delle Marche dell'Emilia Romagna avete naturalmente una casistica enorme su questo siamo in chiusura su tutte le cose più incredibili che la gente riesce a fare con gli ascensori ma la più classica di tutte me l'hai detto l'altro giorno la fessura quella che sta la fessurina sì la fessurina dove praticamente cade di tutto proprio sembra farla apposta ma lì cadono chiavi cellulari documenti che uno dice ma è possibile una fessurina così piccola microscopico eppure invece è così quindi eppure e lì quello è affar vostro insomma il recupero di tutto quello però poi è affar nostro perché poi solo noi possiamo accedere ai locali dell'ascensore proprio per le normative della sicurezza ma succede spesso? eh succede 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 poi avendo noi anche tanti impianti in manutenzione quindi la probabilità aumenta però comunque succede succede certo bene allora noi abbiamo concluso immagino che qualcuno a casa sia molto incuriosito e magari qualcuno stia già riflettendo sull'idea perché in effetti un servoscala oppure un ascensore interno privato anche per i semplici due piani poi volevo anche ricordare scusa se ti interrompo Paolo no 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 fallo fallo che l'installazione di impianti di sollevamento rientrano alle trazioni fiscali del 50% esatto poi chi vuole maggiore informazione ci può contattare direttamente che siamo a completa disposizione infatti lì volevo arrivare se questa chiacchierata che abbiamo fatto con Barbara Bulgerini di Bulgerini Ascensori vi ha comunque convinto o incuriosito una telefonata un contatto naturalmente c'è questo sito internet come ormai tutti abbiamo comunque molto ben fatto con tutte le spiegazioni del caso con la presentazione di tutti i servizi e tutto quanto oppure naturalmente potete anche chiamarci e vi daremo i recapiti ma sicuramente fate prima a cercare i riferimenti su internet e a quel punto vi mettete in contatto direttamente con Barbara chiedete di lei perché l'avete conosciuta visto che avete seguito la puntata chiedete di lei sapete chi c'è dall'altra parte con chi parlate esponete il vostro caso e sicuramente si troverà una bella soluzione complimenti ancora per la bellissima realtà di questa nostra città ne stiamo scoprendo veramente tante e ci fa molto piacere vedere che la città ha nel suo interno queste realtà così belle così importanti ricordiamo sempre che quando diciamo 20 dipendenti stiamo parlando di 20 famiglie che comunque lavorano grazie a un'idea un'iniziativa di tuo padre che ha avuto questa scintilla nel 1971 ma non solo la scintilla ha avuto la forza l'intelligenza la cume di strutturare un'azienda che a 50 anni di distanza non solo funziona ma funziona molto bene complimenti colgo l'occasione anche per ringraziare a tutti i dipendenti che sono la nostra forza lavoro e quindi per l'ottimo lavoro che svolgono tutti i giorni certo complimenti veramente grazie e a questo punto siamo alla seconda pausa prima del terzo ospite della giornata la pausa è una pausa musicale prima ricordiamo che tra dolce e gelato abbiamo chiesto cosa preferiscono a fine pasto tra dolce e gelato al momento il gelato predomina sul dolce il 52% contro il 48% siamo lì comunque è una gara che ancora è tutta da scoprire e da aprire salutiamo ricambiamo i saluti a Lisa Romina Giancarlo e Lisa Simonetta e Giovanni che ce li hanno mandati attraverso i social vi ricordiamo di scaricare la nostra app gratuita di Rossini TV per avere sempre la TV in tasca oltre a tutti i servizi che potete utilizzare attraverso appunto la app l'andate a cercare sugli store sia di Google che di Android che di Apple e a questo punto andiamo in musica con un duo pesarese Light Years Away la canzone si intitola Black Sea è girata in Islanda il video è girato in Islanda ma il gruppo è pesaresissimo torneremo subito dopo col mio grande amico Andrea Fazzi guida naturalistica e non solo scopriremo il meraviglioso mondo della natura grazie e a più tardi seguiteci e restate a guardare questo bellissimo video a fra un po' grazie Barbara grazie grazie mille dai grazie a tutti 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 In this deep black sea I don't even get the chance to breathe Hold my head down, hold my head down Cause as long as I'm drowning, I keep loving you I keep loving you We can dive and die together in a deep black sea You're like my worst part And I would never trust myself As I would never trust this deep black sea But I've never seen the shore, I've never seen the shore Then show it to me Hold my head down, hold my head down Cause as long as I'm drowning, I keep loving you I keep loving you Welcome to Casa Rossini Allora siamo qua con Andrea Fazzi Ciao Andrea Ciao Paolo Il tuo è d'obbligo con tanti ospiti Ma con una persona come Andrea Che conosco da 50 anni probabilmente Siamo da quelle parti Sarebbe strano il contrario Abbiamo fatto le medie e le superiori Esatto Sarebbe molto strano il contrario Siamo qua con Andrea Fazzi Che ogni tanto con qualcuno parlando Veniva a scuola con me Ah sì L'uomo degli alberi Molti ti conoscono come l'uomo degli alberi Non so se si noti Sto cercando di somigliare a un albero Sì Come ero prima ero smilzo Non mi piacevo Adesso cerco di diventare un bel albero secolare Un albero di quelli Esatto Ci sono due cose che ancora non sono riuscito a fare La fotosintesi E le radici Per il resto Diciamo Sulla fotosintesi non mi esprimo Sulle radici invece ti dico un secco no Evita Cioè continuo a muoverti Perché insomma mi sembra Però pensavo Vedere la fotosintesi è bella Perché metti Adesso te andiamo fuori Diciamo Facciamo uno spuntino Ci mettiamo al sole così Bello Ah Che bella mangiata Diventiamo un po' verdi Però dopo per il resto Insomma Però un grande risparmio Benissimo Allora senti Perché ti abbiamo chiamato Ti abbiamo chiamato per parlare appunto di alberi Io ieri quando ti ho telefonato Per dire Di cosa parliamo Come ci organizziamo Sono rimasto molto colpito Da quello che mi hai detto Che mi hai detto Come risposta Adesso ho un attimo da fare Sono venuto a prendere dei semi Com'è che mi hai detto Dei semi interessanti Di alberi che rischiano di sparire Guarda me lo sono segnato e virgolettato Per due motivi Prima di tutto Perché poi mi dirai quali sono questi alberi interessanti Ma soprattutto perché Mi ha fatto fare una riflessione Che non lo so Se solo io Ho pensato questa cosa O se viene in mente a tutti Ma io Non ci penso tutti i giorni Che anche un albero Fa ridere Adesso dico la cosa Che ti metti a ridere Nasce da un seme Perché Lo so che fa ridere A chi come te è abituato Ma sai l'idea Che anche l'albero Quello che ci ripara Che ci protegge dal sole Che ci fa ombra Che ci Da cui cadono Centinaia Migliaia di foglie Non so quante sono Quello ha cominciato Ha cominciato con un seme Perché noi ormai siamo abituati Bene che vada A impiantare un albero Che già Che già in qualche modo è cresciutello No? È vero Alcuni alberi tra i più grossi del mondo Nascono da semi piccolissimi La sequoia Che tutti hanno visto nelle foto E diventa Immensa Nasce da un seme Tutto sommato molto piccolo Non più grosso di così Quindi Tutti noi nasciamo da un seme Poi diventa qualcuno più grosso Qualcuno meno grosso Però gli alberi In modo particolare Diventano veramente grossi E tutto nasce da un seme E quello che dovrei farci pensare di più È che Dove è caduto un seme L'albero è costretto a vivere Qualunque cosa accada E qualunque sia il posto dove è nato Non può fare come noi Che se non ci piace più il posto Ce ne possiamo andare L'albero dove è caduto il suo seme Deve fare tutta la sua esistenza E non può andare via da lì A meno che non arriva l'uomo Che prende lo sposta da un'altra parte Se è un uomo buono Invece Non è un uomo buono Lo taglia E ha risolto E ha risolto il problema dell'uomo Ma non quello dell'albero No Il tuo mestiere è guida ambientalista? Io faccio l'educatore ambientale con le scuole Da un'eternità E sono guida ambientale escursionista Che è una delle professioni del turismo Infatti vediamo un po' di foto Quindi sì Porto la gente In questo caso qui stavo facendo formazione Queste sono le fatine del Bosco dei Folletti A Urbania Sono quelle che poi accolgono i bambini Vestiti da fatine E io stavo spiegando un po' di cose Perché loro poi lo spiegassero ai bambini È un mestiere molto bello Perché da una parte hai l'umanità Cioè i tuoi simili Le persone In cui puoi suscitare dell'entusiasmo Dall'altra c'è il mondo naturale Che è il mio alleato più antico Più profondo nella sopravvivenza Quindi direi che è un mestiere Forse uno dei più belli E quando ci sono queste attività Mi viene da dire È chiaro che c'è una sorta di preselezione Nel senso che tu ti rivolgi a persone Già in qualche modo mentalizzate Che si rivolgono a sua volta a te Con una certa mentalità Il resto del mondo com'è invece? Quando è nata l'educazione ambientale È nata perché cercava di colmare Colmare questa distanza culturale Tra l'uomo e la natura e l'ambiente Erano gli anni in cui c'erano Le grandi questioni ambientali L'inquinamento Si cominciava a parlare di inquinamento Di effetto serra Quindi c'era una grande esigenza Di creare un ponte E non posso dire Che questo ponte abbia funzionato moltissimo Perché la sensibilità Mediamente non è che sia aumentata molto Nonostante le migliaia di ore Che io e i miei colleghi Che abbiamo speso nell'educazione ambientale Quindi oppure trovi Come dicevi tu prima Già persone preselezionate Cioè che ti viene a fare una passeggiata Andiamo a vedere gli alberi E ti vengono le persone Che già gli alberi Ce li hanno un po' nel cuore Il vero traguardo Sarebbe quello di catturare Quelli che non amano gli alberi Certo Quello sarebbe Certo e immagino che siano Anche parecchi insomma Sono anche parecchi Quelli che li ignorano Perché adesso Che uno ce l'abbia con un albero Non credo Adesso alla fine Forse è più facile Trovare qualcuno Che trascura l'ambiente Dal punto di vista della plastica nel mare Quelle cose lì Uno che proprio si mette lì A tagliare una pianta Adesso non lo so L'albero se non è potato Fino a 25 metri Non è bello Quindi in realtà C'è una forma di astio Non dichiarato Una guerra non dichiarata Col mondo dei viventi Ed è strano Perché da noi si preferisce Quasi quasi Un fosso pieno di mondezza Alla pesarese Quindi cartacce Lattine Piuttosto Che un fosso colmo di erbe Che in più nascondono la mondezza Allora lì si passa Con la falciatrice Poi le mondezze non si raccolgono Certo E quindi viene da pensare Ora preferiamo la plastica All'erba Infatti E l'erba Anche se è piccina Anche lei cattura la CO2 Ne cattura di meno di un albero Ma lo fa Gratis Certo Invece la plastica ti avvelina gratis Si pensa poco E questo Adesso mentre parliamo Stanno scorrendo le immagini Di questi alberi bellissimi Che ci hai mandato E che la regia sta facendo scorrere Poi magari ci ritorniamo anche Quello che si pensa poco È che l'albero Non è solo un elemento estetico E come tale Va in qualche modo Plasmato Per soddisfare il nostro gusto estetico L'albero è un attivatore Di un sacco di cose importanti Proprio anche Se volessimo Limitarci solo alla nostra vita personale Anche per la nostra vita No? Il discorso dell'aria Il discorso del frenare I flussi d'acqua Per le frane Insomma Io che non capisco niente Non so niente Però distinto Capisco Che un albero Non è che sta lì Solo per soddisfare il mio gusto estetico O magari per piacermi Non piacermi Ma per un sacco di altri motivi Adesso ci sono anche degli studi Che rendono economico Cioè quantificano i servizi sistemici Sistemici di un albero Cioè Quanta acqua Trattengono nel momento della pioggia Quanta acqua Veicolano dal terreno All'atmosfera Nei momenti in cui è caldo Quindi rinfrescando l'atmosfera Per cui hanno un effetto climatizzante Sottraggono CO2 Che producono ossigeno Lo sanno tutti Ma ce lo scordiamo Ehm Producono paesaggio Perché Potete pensare Roma senza i pini domestici O la Toscana senza i cipressi O le Marche Senza quei filari Di quercia secolari Quindi hanno E' il paesaggio In cui noi nasciamo Che ci è familiare Che ci racconta qualcosa di noi E in più fermano Il particolato atmosferico Quando le polveri Sottili passano Le foglie Un po' lo fermano Quindi Assorbono il rumore Ehm Mi invito tutti A passare quest'estate Ad agosto Una notte di agosto Attorno al Miralfiore E tra il Miralfiore E fuori Ci sono 15 gradi di differenza Incredibile E' una cosa incredibile Condizionatore naturale Gratis Gratis Lo fa gratis Esatto E al di là poi Dopo che Per chi la sa cogliere C'è Una bellezza infinita In un albero Un albero E' un essere Che riporta In tutte le sue caratteristiche Tutta la sua esistenza Anche noi in parte Anche se noi non vogliamo Nasconderla Le rughe le vorremmo appianare tutte No Ti singiamo i capelli Tu no Io no Decisamente no Uno è quello che è Dice vabbè Io sono anche fiero delle mie rughe Di espressione Ho pianto Ho riso Ho grottato la fronte Perché l'ho preoccupato Tutto quello che è il mio viso È il racconto di me stesso L'albero è esemplare in questo L'albero ti dice Qui un ramo è caduto Qui ho avuto una ferita Qui ho sofferto Questi dieci anni ho sofferto La siccità E lì c'è raccontata Tutta la sua storia Quindi è una poesia Che vive E poi un testimone Adesso non ce lo può raccontare Ma un albero è un testimone Di tutto quello che gli è successo intorno Per cui senza andare a quelle razze A quelle specie millenari E cose del genere Un albero normalmente Comunque qualche centinaio d'anni Mi sa che se nessuno lo taglia E allora qualche centinaio d'anni Vuol dire che ci sono alberi Davanti ai quali noi passiamo normalmente Magari anche al parco Mirafiore Che erano lì quando c'era Napoleone Voglio dire no? Ah si Stiamo parlando di queste cose qui L'età degli alberi è qualcosa di stupefacente Per andare al BPA Insomma al vitifrigo C'è un platano Che ancora ha infissi chiodi Perché era un albero vedetta Dove c'era una sentinella Durante la seconda guerra mondiale Poi una bomba l'ha capitozzato E' enorme E quello era già enorme nel 1945 Quindi aveva già sicuramente Un 200 anni quella volta Le nostre querce possono arrivare a 450 anni Se andiamo non lontano da qui A Villa Verrucchio C'è il cipresso che si dice Ave piantato San Francesco Che è una cosa che se ci pensi E lui potrebbe anche fermarsi E direi Sai che ho visto il tuo bisnonno Il tuo trisavolo Passare di qui E potrebbero raccontarci delle cose meravigliose Certo Una volta mi hai detto una cosa Che mi ha fatto riflettere Che mi è rimasto impresso Un sacco di tempo Proprio Ancora oggi me lo ricordo Proprio legata all'albero Alla sua estetica E tutto quanto Ha detto L'albero di suo Non ha bisogno di essere potato Molti sono convinti invece Oppure fanno passare Questo messaggio Che l'albero Per stare in salute Ha bisogno che ogni tanto Uno gli dia una bella tagliata Eccetera eccetera E semmai Quelli più illuminati Fanno un ragionamento Legato alla stagione Dicendo che c'è il momento giusto Il momento sbagliato Eccetera eccetera E tu invece mi hai detto Non è vero L'albero di suo Non ha bisogno di essere potato E confermi? Assolutamente Ti do un dato Guarda Proprio scientifico Istorico Gli alberi Sono Essere molto antichi Le piante sono uscite dal mare 430 milioni di anni fa Noi non eravamo neanche nei progetti Delle creature terrestri E ovviamente gli alberi Non sono tutti così antichi Ma le specie antiche Hanno come minimo Qualche decine di milioni di anni di esistenza E l'uomo è comparso 200 mila anni fa Per un bel po' di tempo Non ha fatto il potatore L'agricoltore Ma si è limitato a raccogliere la legna A tagliarla se serviva E quando poi abbiamo Fatto questa grande rivoluzione Della agricoltura E abbiamo cominciato A domesticare gli alberi E a doverli potare Per farli produrre come vogliamo noi Ma l'albero saprebbe produrre da solo Per motivi suoi Non per i miei Quindi gli alberi Non hanno bisogno di noi Se spariamo tutti quanti Noi Dalla faccia della terra Oggi pomeriggio Domani mattina gli alberi fanno Ah Finalmente Mamma mia Non se ne poteva più Quelle formiche rompiscate In realtà Sono così generosi Che ci tollerano Ci sopportano Ci accolgono Ci aiutano E ci lasciano anche fare molti danni Perché hanno una capacità Di resistenza Di resilienza impressionante Se no non le potremmo trattare In questo modo Certo A Casa Rossini Sono venuti ospiti Parecchi sindaci Di tutta la provincia E ogni volta Io mi faccio mandare Come abbiamo fatto con te Delle foto E soprattutto Per quanto riguarda i borghi Quelli che conservano ancora le mura Qualche bella foto Adesso sai che con i droni Si fanno delle foto sensazionali Rivela comunque Una natura ancora importante Cioè nei paesi dell'entroterra Al di fuori delle mura Ci sono distese enormi Di vegetazione Di alberi Di foreste E tutto quanto Non stiamo così male Dai Non è così tragico L'Italia è un paese Di cui i boschi stanno riprendendo Perché vabbè La legna Non è più così strategica E molti terreni li abbiamo abbandonati Certi terreni marginali Sono stati abbandonati Dall'agricoltura Quindi i nostri boschi Stanno recuperando Ma l'Italia Si è sempre detto È un paese ricco di boschi poveri No se sono boschi poveri Non sono a maturità Perché un bosco a maturità Probabilmente nessuno l'ha mai visto Quando le piante arrivano All'età finale In cui cominciano a morire Un albero comincia a morire adesso E per cent'anni Continua a morire Lentamente E quindi Non è morto Ma Si avvia È un bosco così Qui non l'abbiamo visto Nemmeno Sassofratino Che è la reserva integrale È una foresta primigenia originale Questo è un albero famoso Questo è quello di Monte Castellaro È il pino coricato Bellissimo È uno degli alberi più fotografati d'Italia Vanno a farci servizi fotografici Perché è un pino che si è piano piano lentamente coricato per terra Le radici non si sono strappate Ma siccome è venuto piano piano Si è appoggiato coi rami Ed è come se stesse così E immaginatevi quell'angolino Adesso la foto non rende Ma immaginatevi quell'angolino lì Come è suggestivo per le foto Io ho conosciuto dei fotografi professionisti A nostalgia E mi hanno detto Questo è uno dei posti dove vengono a fare Con i modelli È un albero che Ha detto Vabbè io anche così Io esisto lo stesso E sai cosa c'è Io continuo Anche se Dovrei morire Perché sono Abbattuto In realtà Sono vivo Guardate Questa è una cosa incredibile Un seme è caduto su una roccia È riuscito a far arrivare Una radice fino a per terra E poi da lì È continuata a crescere Quindi quest'albero Ha avvolto il sasso Ci è cresciuto attorno È una cosa che Se prendiamo come insegnamento per noi Non buttare giù gli ostacoli Crescici attorno Esatto Potremmo anche Avvolgiamo Facciamoli diventare Una base Facciamoli diventare parte di noi Esatto Parte di noi è una base Sono fotografie bellissime Quante Adesso faccio una domanda Veramente stupida Ma non lo so Quante specie di alberi esistono È stato mai calcolato? Sì sì Le specie Quelle censite Sono molte più Molte più di quelle degli animali Ma Non ne abbiamo censite tutte Perché ancora Supponiamo che ci siano molte cose Da scoprire ancora In alcuni ambienti Forse gli alberi li conosciamo Quasi tutti Le specie erbacee Quelle minori Quelle più piccoli Minori nel senso di più piccole Meno vistose Penso che ci siano ancora Diversi migliaia da scoprire Tu naturalmente Guardando Con tutta l'esperienza che hai Guardando Così In panoramica Una foresta Un bosco Quello che è Ne riconosci parecchie Una delle cose più belle Quando impari E riconoscere un albero da lontano Dalla sua forma Dalla sua chioma Dallo spazio che occupa E' un po' come riconoscere Un nemico in piazza Anche da lontano Perché cammina in quel modo Certo Oppure entri in una stanza E dici Ah senti questa risata E' lui E' quella mimica lì E' una cosa Di una familiarità bellissima Ti dà un calore Perché Hai imparato a cogliere qualcosa Che è sempre stato lì Ma Spettava solo a te Fare il passo Per arrivare a conoscerlo Ed è una grande soddisfazione E' bello Arrivare a un posto E dire Oh Lassù su quel crinale Sono tutti pini d'Aleppo Perché pini d'Aleppo E non pini domestici Perché sono fatti così Esatto Hanno un'altra forma Esatto E poi ci sono tante storie No intorno agli alberi Parlando del nostro amico Giorgio Palazzi Che vive Che vive Ad Almatà Tu mi hai detto Che Almatà In Kazakistan C'ha una storia Poi tra l'altro su questa Salutiamo i nostri telespettatori Perché abbiamo già esaurito Il nostro tempo Sperando di poterla raccontare un giorno La traduzione di quella parola vuol dire padre dei meli Sopra la città c'era una grande collina con un bosco secolare Dove vivevano anche alberi di 300 e passa anni Tutta di meli Ci sono delle foto Adesso non le ho portate oggi Meli tutti diversi Da mele piccole così Asprissime A mele grosse così Farinose Rosse Gialle Verdi Viola Nere Era la patria della biodiversità dei meli Quindi in quel posto lì c'era l'esplosione Della capacità del melo di produrre varianti sul tema Mela Però mela piccola Farinosa Dolce Croccante Tutti voi avrete Penso Dei gusti particolari Mi piace la mela rosa Quella che è La Pink Lady Buonissima La Pink Lady Buonissima Tra l'altro sai che la Pink Lady è sotto prevetto ancora Quindi per poterla coltivare bisogna avere il permesso Perché parli al passato Io lo so già ma diciamolo anche ai telespettatori Perché parli al passato Questa foresta non c'è più perché è stata urbanizzata La città si è espansa moltissimo È cresciuta moltissimo Si è arrampicata sulle colline come d'altra parte Pesero Alle rive una volta non abitava nessuno Adesso ci sono dei quartieri meravigliosi E i meli hanno dovuto cedere all'imadenza umana Questi meli sono stati salvati da un signore Che aveva fatto una sorta di campo catalogo Gli hanno dato fuoco i primi anni del 2000 E non c'è più neanche quella coltivazione speciale Però ci sono in giro per il mondo delle persone Che sono i custodi di queste mele Che hanno avuto da una fondazione americana Una pianta e la custodiscono In nome della biodiversità mondiale Un giorno potrebbe venire buono Che quella pianta che hai preso te Con quel sapore lì Io so che c'è lei te E quindi io la prendo Le incrocio con un'altra E faccio un'altra Pink Lady Cioè un'altra mela di grande successo economico Per cui c'è anche una grande economia lì dentro Una grande economia, una grande varietà E soprattutto tante bellissime storie Che abbiamo ascoltato oggi con Andrea Fatti Andrea, guarda Come sempre, io dico sempre Sta cosa ormai la gente mi prenderà in giro a casa Perché io dico sempre che quando si parla di cose belle Il tempo vola Vola veramente tanto E io mi ci ritrovo tutti i giorni a dire Purtroppo abbiamo esaurito il nostro tempo Ma siamo convinti di aver raccontato ai nostri telespettatori E ai nostri telespettatrici qualcosa di interessante e piacevole Se qualcun altro vuole seguirti come deve fare? Io faccio molte escursioni Al Miralfiore per esempio Tutte le terze domeniche C'è la passeggiata aperta a tutti, gratuita Poi ricominceremo Una cosa che abbiamo dovuto interrompere per il Covid L'arbo trekking urbano Cioè noi andiamo in giro per la città A riconoscere gli alberi Scegliamo quelli più belli, significativi Con una storia E facciamo queste camminate Molto semplici Perché io come guida sono una guida molto rassicurante Quando una persona vede me dice No, con questo non si cammina molto Quindi sono la classica guida Non mi affatico Con colui non fatichiamo niente E l'arbo trekking non è faticoso E anzi è molto bello Si va piano piano E si vanno a conoscere gli alberi Della nostra città Del nostro Interland Quindi Poi Sì, facciamo conferenze Sono due anni che siamo fermi per colpa di questa cosa Ma riprenderemo Bene, bene, bene Allora seguiamo con attenzione Che cosa succederà Nelle prossime settimane Nei prossimi mesi E soprattutto Impariamo Ad aver voglia Di riconoscere Gli alberi Che sono intorno a noi Alle volte Non ce ne accorgiamo nemmeno Andrea grazie Grazie a te E grazie a tutti Soprattutto per averci ascoltato E seguito L'appuntamento è una delle prossime puntate in diretta di Casa Rossini E restate sempre con i programmi di Rossini TV Buona giornata E buona visione a tutti Grazie Grazie Andrea Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti